Oggi è 31, 31 marzo, 2012 comincia il nostro a fine settimana di pesca, col pacco di Fabio Andiamo a vedere il tubo alari Sto già segnando assaragi Mi serve una bandierina No, no, ce l'ho anche io No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.